Il governo delle badesse Ruggero di Monticchio donò a Guglielmo da Vercelli il vasto feudo del Goleto per avviare la costruzione di un monastero doppio che ospitasse una comunità di donne e uomini. Un raro caso nell'Italia meridionale e probabilmente in tutta la penisola sotto il governo di una badessa con piena autonomia di gestire e organizzare la vita monastica oltre alla piena libertà amministrativa dei beni. Le fu concesso anche l'uso del bacolo pastorale il bastone simbolo della dignità vescovile. Il monastero del Goleto divenne una fucina di spiritualità e di preghiera supportate da pratiche di astinenza e penitenza delle monache condotte con rigidità. Scrive nel 1649 l'abate generale Gian Giacomo Giordano nelle sue Croniche di Montevergine esaltandone il modello di vita virtuosa. La loro vita e astinenza è più da ammirarsi che da potersi imitare e ce lenca gli alimenti perché niuna di esse dopo ricevuto l'abito e entrata nel monasterio beveva mai vino neanche in caso di infermità. Carne, uova o latticini nemmeno era lecito tra di loro nominarli nonché mangiarli. Il vitto dunque loro continua era che tre giorni della settimana mangiavano solamente pane e acqua con qualche frutto o l'erba cruda. L'altri tre giorni al pane aggiungevano una sola minestra d'erbe o di legumi con un poco d'olio e questo mangiavano anche la domenica. Questa manifestazione di fede era tanto più encomiabile considerando la ricchezza di proventi dell'abbazia e la provenienza da famiglie nobili e agiate di molte di coloro che erano entrate in clausura. Il culmine dello splendore artistico del Goleto fu raggiunto sotto il governo dell'abbadessa Marina II. A leggia quasi palpabile nell'ambiente che l'ha vista agire per trent'anni come protagonista di una delle esperienze più particolari del monachesimo italiano. Il periodo d'oro abbraccia circa due secoli fino al 1348 anno della peste nera che segna l'inizio della lenta e inesorabile decadenza. Papa Giulio II con una bolla del 24 gennaio 1506 ne decretò la soppressione sopraggiunta dieci anni più tardi con la morte dell'ultima madre abadessa Maria. Il monastero fu allora affidato ai monaci di Montevergine che lo mantennero fino al 1807 quando un decreto napoleonico sancì la sua definitiva soppressione e la traslazione del corpo del fondatore a Montevergine.